voglio farvi riflettere sul ladrone sulla croce quando lui gli disse signore ricordati di me quando sarai nel tuo regno e Gesù gli rispose oggi stesso tu sarai con me in cielo noi sappiamo quello che è successo per il ladrone sulla croce ancora doveva succedere però gli stava credendo in qualcosa che sarebbe successo credeva che Gesù sarebbe morto per i suoi peccati credeva che Gesù sarebbe risorto per i suoi peccati credeva che Gesù avrebbe dato la sua vita al posto suo quest'uomo ha avuto una fede estrema perché ha creduto quello che stava succedendo in quel momento attraverso l'opera redentrice del figlio di Dio quello che i religiosi non avevano capito ma quello che un ladrone, un criminale crocifisso a fianco a Gesù stava realizzando signore ricordati di me quando tu sarai nel tuo regno